Quali sono gli aspetti critici del nuovo Senato? Stretturato come è c'è il problema che i futuri senatori non hanno vincolo di mandato e quindi potranno cambiare e andare in qualunque altro partito o meno. Ricordiamo che questa riforma costituzionale è stata fatta con la trasmigrazione di ben 244 parlamentari. L'altra cosa brutta è che i futuri senatori, i futuri sindaci che andranno a ricoprire questo ruolo purtroppo avranno l'immunità parlamentare e strutturato come è ci sarà solo confusione. Il bicameralismo non è assolutamente superato, ci sarà molta più confusione. Il problema delle leggi non è un problema italiano, ricordiamo che in Italia ci sono 150.000-200.000 leggi, in Inghilterra ce ne sono 3.000 di leggi. Il problema sono politici adeguati a gestire uno Stato. Il governo difende la riforma sostenendo che farà risparmiare allo Stato? Sì, però peccato che anziché il miliardo o il mezzo miliardo che sbandiera Renzi il risparmio effettivo sarà di circa 50 milioni di euro. Se consideriamo che con la legge elettorale che ha voluto Renzi, la più bella legge elettorale del mondo, il secondo mandato costa 300 milioni, il dover andare al ballottaggio, vediamo subito dov'è il risparmio. Consideriamo poi che il premio a Renzi ha voluto il mega Airbus. Questo mega Airbus costa all'anno circa 20 milioni di rata di leasing e 15 milioni di manutenzione. Però pecca all'anno, quindi siamo già attorno ai 35 milioni a fronte di 50 di risparmio. Se poi consideriamo che il buon Renzi, quando è andato da Obama, non è andato con questo mega Airbus, ma è andato con altri due aerei di Stato, mi spiegate dov'è il risparmio? Alla prossima!